Si io fosse quelli che d'amor fu degno, è un sonetto di Cavalcanti in risposta a un sonetto di Dante, il sonetto di Guido vorrei che tu, Lapo e io, l'invito di Dante all'amico Guido, Cavalcanti appunto, di potersi ritrovare su una barchetta e vivere l'aristocrazia dei sentimenti assieme in una condizione contemplativa, assieme alle proprie donne. Questo sonetto, in riferimento al sonetto, io vi rimando alla scuola siciliana, questo sonetto che di Cavalcanti viene tratto dalle sue rime è la risposta. E sappiamo che la poetica di Cavalcanti è una poetica sofferta, non è quella radiosa, serena di Guilinzelli o di Dante, e che dipende da una proiezione filosofica ben precisa che Cavalcanti aveva dell'amore e che è una proiezione che ci arriva da Averroè. Ecco, bisogna partire da questa premessa, altrimenti non riusciamo a comprendere bene per quale ragione Cavalcanti non abbia detto sì a Dante, ad un invito così grazioso. Secondo Cavalcanti, l'amore nasce da un'esperienza materiale di un corpo ben preciso, di una donna ben precisa. Ora, l'intelletto che astrae queste forme, le forme intellette, intellettive o intellecte, è un intelletto non inteso alla maniera di Tommaso d'Aquino, ma alla maniera della filosofia araba. Per cui questo intelletto possibile è un intelletto universale, completamente scostato dall'anima sensitiva, che con la sua vis cogitiva produce i fantasmata, cioè delle figure che in qualche modo possono ingabbiare la volontà e rendere lo spirito dell'uomo servo di fronte a questo sentimento d'amore. Per Cavalcanti, dunque, il rapporto tra la sfera intellettiva, laddove le idee si possono solamente contemplare, e la sfera sensitiva non esiste, non ci può essere, sono due realtà completamente separate. C'è quindi un assuperamento della posizione anche della filosofia platonica e neoplatonica, della mimesi e metessi, per cui pur nella filosofia platonica, pur la realtà di questo mondo, rimanendo una realtà declassata rispetto alle idee del peruranio, tuttavia questa realtà partecipa per mimesi, imitazione e metessi, partecipazione delle idee eterne, della perfezione delle idee eterne. Per Averroè non è così, e non è così neanche dunque per Cavalcanti. Quindi l'amore per Cavalcanti è un tiranno che attraverso queste immagini che produce l'anima sensitiva, che è tutta umana, spesso può perdere la persona. La persona può addirittura sviluppare delle immagini contrastanti, delle immagini, direi, tra virgolette, suicide, laddove la passione domina e genera la devastazione nello spirito, nell'uomo, nell'individuo. Differente alla posizione di Dante, e infatti il sonetto inizia così Se io fosse quelli che d'amor fu degno, del qual non trovo sol che rimembranza, e la donna tenesse altra sembianza, assai mi piaceria si fatto legno. Quindi se io fossi un uomo degno d'amore, quasi che Cavalcanti possa riconoscere in qualche modo la posizione di Dante, tu forse sei più degno di me, forse tu sei riuscito a entrare in quella sfera intellettiva da cui io mi sento escluso. Ora, io se fossi un uomo degno d'amore, vedete che c'è un anastrofe, del quale, di cui, di questo uomo, io ho soltanto più il ricordo, animembranza è da francese, Raymond Brown si ricordo, e la donna, vedete, possedesse un altro aspetto provenzale, semblanza, aspetto, vedete quindi quanto è importante la concretezza della persona, quella che invece non è presente nel dolce stile nuovo di Dante, non c'è una volta che Dante ci presenti le fattezze di Beatrice. dice, assai mi piacerebbe imbarcarmi con voi, si fatto legno è una metonimia? Questa barchetta che mi stai, il vasel, no? Questa barchetta che mi stai proponendo, legno è una metonimia, piaceria è il condizionale, inia mi piacerebbe. E tu, che se dell'amoroso regno la onde di Merzè nasce speranza, riguarda se il mio spirito ha pesanza. E tu, Dante, che appartieni a quel regno dove l'amore dà la speranza di una mercede, Merzè deriva dal latino, da mercede, è un compenso, dà la speranza di un compenso, guarda se mai il mio spirito, quindi la mia anima sensitiva, ha pesanza, ha ancora peso dal provenzale, ha ancora peso, può ancora gestire questa situazione o è completamente come tu sai bene, tu mi conosci, sconfitta da un dittatore, vedremo qual è questo dittatore, nei versi successivi. Facciamo una riflessione. Spesso le poesie di Cavalcanti sono state definite di stampo romantico. Ora, possiamo definirle in questo modo. Siamo in italiano, siamo in critica letteraria. Io, quando qualche mio alunno si permetteva di dare certe definizioni che non erano perfette, io le accettavo ugualmente. Le accettavo ugualmente perché se sono motivate non bisogna assolutamente così rifiutarle, ecco, perché sono oggetto di riflessione, quindi sono importanti. però è necessario chiarire. Abbiamo già detto che per Dante il termine romanticismo non si può predicare, in modo particolare per la poesia cui appunto Cavalcanti dà una risposta con questo sonetto. Perché? Ma innanzitutto perché in quella poesia, nello specifico, c'è uno stato quasi classicheggiante di perfetta condizione in quella barca, no? Una situazione lirica, fiavesca che non ci pone nella condizione dello spirito sofferente che è lo spirito romantico. Secondo, perché non c'è la nostalgia, non abbiamo nostalgia in quella poesia di Dante. Ora, dette queste cose, passando alla composizione di Cavalcanti, noi potremmo dire, beh, qui in un certo senso la sofferenza c'è, e caspita che sofferenza. poi all'inizio si potrebbe anche trovare un pizzico di nostalgia se io fossi quelli che d'amor fu degno dal qual non trovo so che rimembranza. Quindi c'è stato un momento in cui l'amore non aveva devastato il cuore di Cavalcanti e Cavalcanti ricorda con nostalgia quel momento lontano. Dunque, romantico? Beh, in queste due prospettive si potrebbe anche definire romantico, però la differenza sostanziale che c'è tra il romanticismo e un Cavalcanti è questa. Nel romanticismo il poeta esprime un'esperienza tutta personale che non pensa assolutamente di renderla universale. Per Cavalcanti invece il personale è presente ma fino a un certo punto ma la sua esperienza che è un'esperienza con effetti negativi dell'amore diventa universale. L'amore si presenta così secondo Cavalcanti non solo per lui Guido Cavalcanti ma sono gli effetti dell'amore che appunto abbiamo detto prima attraverso attraverso la vis cogitativa l'anima sensitiva con i fantasmata porta se stessa ad una condizione di passione una passione che la travolge e la può anche distruggere. Questa universalità non ci permette di parlare di romanticismo. compresta arcer di lui ha fatto segno e trage l'arco che li tese amore silvietamente che la sua persona parche di gioco porti signoria. E ti spiego la ragione per cui io non ho più la capacità il peso di uscire da questa condizione e di vivere quella esperienza idillica che mi stai proponendo. Un arcero un arcere abile prestante da presto latino anche questo è un termine che deriva dal nostro latino ha fatto segno di lui. Arcere una metafora e trage l'arco trage da traere latino tendere anche arco è una metafora quindi questo arcere è lo spirito della donna amata che ha teso l'arco e bene ha preso come obiettivo il cuore del poeta. Un arco che gli fu offerto dallo stesso amore amore qui è un antropomorfismo il dio amore che tende che offre l'arco a questo arcere che è la donna amata che a sua volta tende l'arco e prende come obiettivo il cuore di Cavalcanti quindi amore è una figura che noi definiamo prosopopea e compie questa opera così felicemente che la sua persona sembra che porti signoria di me per gioco per divertimento signoria deriva dal latino signorem signore signoria cioè potere anche questo termine signoria è una metafora vuol dire potere or odi maraviglia che lo spirito fedito li perdona vedendo che gli strugge il suo valore ora ascolta attentamente maraviglia maraviglia è il neutro plurale accusativo plurale di mirabilia da mirabilis latino ascolta attentamente le cose mirevole che lui dice cioè il mio spirito il mio spirito perdona nonostante tutto vedendo questo vedendo è un gerundio con valore concessivo sebbene è consapevole che quell'arco quell'arcere sta distruggendo tutte le sue forze tutto il suo valore tutte le sue virtù sta distruggendo il suo stesso spirito una osservazione questo ferito che vuol dire ferito secondo me non ho mai capito da quale termine possa derivare etimologicamente perché in latino abbiamo ferire ferio ferire non capisco perché al posto della r ci sia venuta fuori una d se qualcuno vuole aggiungere una propria riflessione a questo proposito è gradita un po' Grazie.